Il nostro intento è dare servizi di prevenzione, non intendiamo sostituirci a nessuno, ma aiutare la gente a sentirsi vicina alla medicina e alla prevenzione, questo è il nostro intento. Dalla prevenzione pediatrica a quella cardiovascolare e diabetologica, senza dimenticare gli amici animali con la prevenzione veterinaria e non solo. In piazza Sant'Agostino è così tornata la giornata degli screening sanitari gratuiti, un evento organizzato da Lions Club Mecenate, Lions Club Chimera e Leo Club. Il Lions in piazza è una delle iniziative che permettono a tutti i cittadini di poter svolgere delle prime visite sanitarie completamente gratuite, per esempio nel controllo della glicemia, che è molto importante perché è una delle aree in cui i Lions privilegiano il proprio intervento, il contrasto alla lotta contro il diabete, che sappiamo che è una delle problematiche che si sta diffondendo maggiormente. Poi ci sono dei controlli in ordine cardiologico, torino-laringoriatra ed altre discipline, pediatria e poi per la prima volta, questo lo possiamo dire con soddisfazione, in Toscana, è possibile anche fare un controllo per gli amici a quattro zampe grazie al contributo di un veterinario. I Lions vogliono essere donne e uomini contemporanei. La contemporaneità è la lettura dei bisogni emergenti da una comunità. Questo tema delle lunghe file, della difficoltà anche di avere delle risposte immediate e anche necessarie per molte persone, ecco noi oggi offriamo questo servizio. Il service è il mezzo attraverso il quale i Lions vogliono aiutare la comunità in cui vivono.